Maurizio, Maurizio, tu lo sai che oggi per me è un giorno bellissimo? Che ha fatto? Perché sta per arrivare un artista che è un vero numero uno, ma soprattutto un uomo che sa parlare d'amore come le donne vorrebbero che facesse il proprio uomo. Diciamo che tu non lo puoi capire, mi dispiace Maurizio, tu non lo puoi capire! Con il suo album Un Giorno Bellissimo che è già in testa a tutte le classifiche, è qui con noi a Domenica Inn, Francesco Rovina! È già mattino e fuori piove, ti sento respirare, sei qui vicino a me. Mi volto piano e il tuo profumo riempie il mio cuscino di cose che vorrei. È un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te. Nella penombra di questa stanza, le cose di ogni giorno aspettano con me, di luce ed ambra, la tua sostanza sostituisce al sogno l'immagine di te. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad esserci. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita in te. Comincia da un battito, le ciglia si aprono. E' davanti a mio che questo spettacolo è solo da vivere, da vivere io. E' un giorno bellissimo, bellissimo per stare in cielo. E' un giorno bellissimo per continuare a diventare la vita insieme a te. E' un giorno bellissimo, benvenuto. Questo è il nuovo album, fate, 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 già in testa alle classifiche. Francesco, allora, 12, benissimo. Sei altissima. Benissimo, è un disco bellissimo. Grazie.